Lasciami dire che io proprio ieri ero a Pichino, questo non l'ho comunicato a voi di Rizzoli per non farvi venire un colpo, quindi a questo momento sono in Giappone, però per dire che la Cina si sta muovendo... Grazie a voi, sono qui per lavoro, quindi ci sta. Ma appunto immaginavo conoscendo alcuni dei tuoi collaboratori, di cui non farò i nomi, l'attenzione che questo avrebbe potuto generare, no, al di là delle battute, la Cina che cosa fa in questa guerra? La Cina è l'obiettivo opposto degli Stati Uniti, e come è ovvio speculare è anche un po' banale, ma che vuol dire nel concreto? La Cina vuole distrarre gli americani, non solo vuole distrarre gli americani, ma vuole mettersi alla testa di quello che noi in Occidente chiamiamo il sud globale, che è uno sviluppo, un'ulteriore edulcorazione del terzo mondo degli anni settanta e degli anni ottanta, che è sempre la maggioranza dell'umanità, che però noi abbiamo messo in un recinto e chiamiamo in questo modo, che però non è sud per niente, perché la Russia che si pensa, o anche la Cina che vuole capitanare quel mondo, non sono emisfera australe, l'ultima volta che abbiamo controllato, ma va bene o va male, insomma, decidetelo voi, tantomeno lo è la Corea del Nord, paese improbabile, impresentabile, tutto ciò che vogliamo, la peggiore dittatura del mondo, che però mettiamo, non nel sud globale, ma che il sud evidentemente non può essere. La Cina manca di missione imperiale, storicamente, un paese autoreferenziale, si definisce in mandarino, come è arcinoto, il regno di mezzo, cioè il centro del mondo, quindi fatica ad avere, se gli iraniani ne hanno una velleitaria davvero un po' ridicola, come missione universalistica nello cismo, al punto da, citavo, l'episodio della fantastica, fantastica per chi si occupa di queste cose, lettera di Comeini, Gorbaciov, alla quale peraltro Gorbaciov non sapeva come rispondere, interrogandosi con i suoi soldati, chiedeva, ma dobbiamo rispondergli, cioè nel senso, è una lettera seria, alla fine rispose, rispose, chi se la vuole andare a cercare, la rispose Gorbaciov, che stava sul viale del crevuscolo, o quasi è affascinante, nel suo minimalismo, chiusa parentesi, i cinesi questa missione non ce l'hanno, credono ad averla trovata nella guerra d'Ucraina e nel conflitto in Medio Oriente, cioè mettersi alla testa dell'altro mondo, del mondo contro, come lo chiama Domino, cioè quel mondo che vede nell'Occidente un nemico, storico, e Israele viene interpretata come una miniatura, dicevo, dell'Occidente nella terra degli infederi, cioè laddove non dovrebbe essere. Assurdo? Certo, ma è ciò che la maggioranza dell'umanità spesso rimprovera a Israele. Conosciamo bene, anche con benature evidenti di antisemitismo. E la Cina si è messa la testa in questa guerra in maniera strumentale di questo filone. Se andate a vedere i dispacci del Ministero degli Esteri cinese, di questi giorni, sembrano i dispacci svizzeri. Cioè, solitamente, proprio per cultura, la diplomazia cinese è estremamente bizantina, se non fosse bisanzio. Come ovvio, molto lontano dalla sua cultura, ma per intendere che cosa? Fumosa, volutamente capsiosa, estremamente sofisticata, ma è tendenzialmente mediana. Cioè, niente è il contrario di niente. Invece, nella crisi in corso, la presa di posizione della Cina è stata netta. È colpa di Israele. Cioè, sì, condanniamo l'attacco di Hamas, ma attenzione, il conflitto alla base è colpa di Israele. Questo si intuisce chiaramente nella presa di posizione della Cina. Proprio per quelle ragioni strumentali di missione imperiale a cui faccio riferimento. Seconda ragione che muove la Cina, e su questa mi fermo, la Cina vuole distrarre gli americani, come dicevo. Se gli americani vogliono chiudere le loro distrazioni, la Cina le vuole aumentare. Perché li fa distogliere dall'Indo-Pacifico, che ovviamente è il teatro principale di Pechino. Non dimentichiamo che quando gli americani sopravvalutano l'11 settembre, e noi continuiamo dietro di loro con un senso della storia un po' ridotto a livello temporale, mi permetto di dire, gli americani lo sopravvalutano perché l'attacco sul loro territorio rimanda in tilt. Loro vivono su un altro mondo. Quindi vedersi attaccati sulla terra, se non avuto la battaglia delle Aleutine e per Arbor durante la Seconda Guerra Mondiale, ma insomma siamo a livello diverso, non è territorio metropolitano, New York è qualcos'altro, sopravvalutano e finiscono in Afghanistan. I cinesi allora capiscono quanto può valere la distrazione americana. Se ne approfittano, comprano buoni del tesoro degli Stati Uniti a profusione, pagando il soggiorno americano in Afghanistan nei primi dieci anni affinché vi rimanessero, soprattutto spendono il surplus commerciale nel loro riarmo. Quella distrazione è tornata loro molto utile, vorrebbero ripeterla tanto in Ucraina che vorrebbero tenere come conflitto a bassa intensità in cui non muore e non guarisce nessuno, con gli americani costretti a tenervi gli occhi addosso e figurarsi anche in Medio Oriente. Quindi la Cina come pesce in barile è un po' come la Turchia, ma ovviamente a livello superiore e con ragioni differenti. si muove in questo modo, della ragione per cui poi si offre come mediatrice. Che c'è di meglio quando tu un conflitto non lo vuoi estinguere che intestarti la mediazione? Perché a quel punto ne gestisci il tempo, ne gestisci la cronologia. E ti poni, invitando questi soggetti a cui tu facevi riferimento, nella capitale Mandarina, ti poni come ago della bilancia, con un'espressione da luogo comune, che vale o non vale, ma è ciò che Pechino vorrebbe per sé. Dario, Putin si sta fregando le mani per la soddisfazione? So bene che posta così non è una domanda di carattere, non è una domanda diciamo nel tono geopolitico, quindi finisce a Putin la situazione, ma è per intenderci. Quindi la domanda in altre parole così meno asciutte sul rapporto tra la situazione tra la guerra in Ucraina e quello che sta accadendo in Medio Oriente. Sì, Putin e la Russia in generale è felice altrettanto delle distrazioni americane. Cioè parliamo comunque di soggetti che hanno potenze diverse. Gli Stati Uniti hanno una potenza ancora oggi, dicevo, molto superiora a quella di Russia e cinesi, non in questo senso gerarchico, quindi mettendo la Cina sopra, la Russia, come è ovvio, per cui si muovono, diremmo, per usare un'espressione calcistica, si muovono di rimessa, russi e cinesi. Ciò che distrae gli americani vantaggia loro. Anche i russi beneficiarono largamente dell'invasione americana dell'Afghanistan e dell'Iraq. Non dimentichiamoci che proprio durante quel periodo invadono la Georgia. Non solo, lo sconvolgimento americano del Medio Oriente di allora prece schizzare il prezzo di idrocarburi per il grande beneficio dei russi, figurarsi. E l'idea di avere troppi fronti, che l'incubo di ogni grande potenza, e così anche degli americani che hanno imparato sull'europelle quando erano ancora una superpotenza adolescenziale, per l'appunto all'indomani dell'11 settembre, l'incubo è quello di avere troppi fronti aperti. E allora il ragionamento russo è se si apre quello Medio Orientale scade di cogenza quell'Ucraino. E questo sta già succedendo. Nelle ore in cui Hamas attaccava Israele, la Russia passava al contrattacco nell'oblast di Danetsk. Non è un caso. Non vuol dire che fossero collegati. Io, così, per dirla con un anglicismo, con un indovinello istruito, impropriamente tradotto così, quelle giuggerie gas che poi pretendono gli anglosassoni, io direi che i russi fossero più o meno a conoscenza di questa eventualità. Cioè che potesse accadere attraverso l'Iran. Scusate, l'Iran rifornisce all'ingrosso la Russia di materiale bellico, specialmente droni in Ucraina. I rapporti... La Russia ha salvato negli anni scorsi il principale cliente dell'Iran, oltre a Hezbollah, che è il regime di Damasco. I due paesi si sono fatti da guerra per secoli, i due imperi, quello russo, soprattutto per il Caucaso e quello persiano, specialmente quando quello persiano era dominato da un'altra dinastia purcocca, i gaggiari, questa è un'altra storia, i gaggiari che poi salta nell'inizio del Novecento, ma adesso non sono nemici in quel senso. I russi sapevano, mi avviso, attraverso l'Iran di quello che stava per capitare, non potevano forse segnarlo sull'agenda nel giorno specifico, ma ne avevano sentore, e dicono, beh, questo distrae gli americani dall'Ucraina. E per la Russia è tutto, non esiste dossier più strategico dell'Ucraina per Mosca, con Putin o con alcun altro a spingere il pulsante rosso al posto suo. Quindi questo si aspetta la Russia, e gli Stati Uniti, infatti, vorrebbero, dicevo, congelare la guerra in Ucraina. Ed è ciò che cominciano, in maniera ormai nemmeno più sotterranea, a segnalare alla presidenza Ucraina. Cioè che il negoziato in una consunzione della guerra, così viene definita nemmeno più con la mano davanti alla bocca dagli apparati statunitensi, in una guerra che è ferma, o può anche peggiorare per l'Ucraina nei prossimi mesi, e quindi vale la pena parlare con i russi. L'idea è questa, degli americani, adesso non abbiamo tempo per analizzare che cosa stanno perseguendo, oltre a difendere, ci mancherebbe l'Ucraina in questa guerra, laggiù ciò che può servire che i russi sanno, e non stanno sbagliando, che i russi beneficiano della distrazione americana in Medio Oriente, specialmente in Ucraina. Io, Dario, ti ringrazio moltissimo, siamo puntuali al nostro orario, e dobbiamo chiudere, abbiamo, diciamo che ho incorporato in qualche modo nelle domande che ti ho rivolto, anche soltanto alcune delle domande che erano giunte, ma naturalmente in questi casi, come usa dire, il tempo è tiranno, se ne vorrebbe sapere molto di più, e in questa direzione vanno anche molti degli interventi nella chat che ti ringraziano. Quindi, grazie, grazie, ed è stato con noi anche dal Giappone, e a presto, quindi io ringrazio tutti i partecipanti e le partecipanti, ancora una volta Dario Fabri. Buona serata a tutti e a tutti. Arrivederci.